Allora, fino adesso abbiamo parlato dell'aeronautica come forza armata e di quello che fa l'aeronautica. Questa seconda parte parla un po' del mondo dell'industria e come l'industria si comporta e, guardate un po', utilizza gli stessi metodi che utilizza l'aeronautica. Quindi c'è un dual use, noi diciamo, civile-militare anche in certe metodologie. Io all'inizio vi parlerò dei vantaggi di una corretta pianificazione e vi farò una specie di esercizio molto semplice per far vedere come si commettono degli errori nella pianificazione e poi vi porterò a vedere due esempi che ricalcano un po' quello che il colonnello Tamburro ha appena presentato, ma un po' più in grande. Allora, voi avete visto che il simbolo del terzo stormo sono quattro gatti. Quando avevo iniziato a preparare questa presentazione, in effetti ce n'era solo uno di gatto perché mi ero posto il problema se i gatti hanno sette o nove vite. Voi sapete che da noi sono sette vite, in altri paesi sono nove. E allora io per presentarmi avevo pensato di fare un elenco di che cosa ho fatto nella mia vita, ripeto, io non sono un ufficiale dell'aeronautica, ma mi sono occupato, dopo essere stato un fisico nucleare mancato perché in Italia il nucleare è stato cancellato, mi sono occupato di avionica che è l'elettronica a bordo degli aeroplani, i computer, i display. Poi mi sono occupato di sistemi di difesa terra-area. Mi diverto a dire all'aeronautica il sistema per buttare giù gli aeroplani. Quindi ho fatto gli aeri, ho fatto sistemi di terra-area, poi mi sono occupato di sistemi di comando e controllo e di radar perché bisogna avere un sistema di comando e controllo, bisogna avere dei sensori per poter poi buttare giù gli aeroplani. E poi mi sono occupato di integrazione industriale transatlantica perché facevo parte di una grossa società italiana, la più grossa, Leonardo, che aveva comprato una piccola società di 25.000 persone negli Stati Uniti. Quando sono andato in pensione abbiamo fondato una società di consulenza a Bruxelles, l'Atlantic Organization for Security, sono il chairman per quanto riguarda la Nato e il comando che guarda il futuro della Nato per quanto riguarda il sostenimento, ma mi occupo anche di maxi emergenze. Ne abbiamo parlato prima col colonnello Tamburro. eventi, le abbiamo chiamati eventi non convenzionali, quindi imprevedibili. Poi per quanto riguarda l'Europa c'è l'Istituto dell'Aerone di Avigazione e l'Associazione dell'Arma Aeronautica di cui appartengono. Se conto queste cose mi rendo conto che avevo commesso un errore. È meglio avere 11 vite come gatto, quindi dobbiamo cambiare le regole. Ho messo in evidenza delle parole che poi rivedremo giovane, sustainment, unconventional, navigazione e aeronautica. Le rivedremo dopo come applicazioni. Allora adesso parliamo di quello che dicevo all'inizio, i vantaggi di una corretta pianificazione. e una parola che era diventata tanto di moda l'anno scorso è stata la parola cronoprogramma. Ho trovato un piccolo video della Sette dove si parlava di questo cronoprogramma. La parola di oggi, mi permetto di dire, è cronoprogramma. Le forze politiche di condividere un percorso anche sul piano del cronoprogramma. Non possiamo permetterci di proseguire con dichiarazioni, differenti sensibilità, sfumature varie, diversità di accento. Purfaro, la parola di oggi, mi permetto di dire, è cronoprogramma. Cosa significa cronoprogramma, Alessio? Allora, la definizione era precise scadenze per ogni fase di lavorazione o di un progetto. Devo dire che qui si sono dimenticati una cosa. Qualcuno ha idea di che cosa hanno dimenticato? La cosa che è stata dimenticata è che cosa si fa, il famoso piano B. Se succede qualcosa per cui le precise scadenze di ogni elemento, eccetera, non si possono fare. Moltissime persone pensano che una volta che hanno messo in fila le attività da fare, hanno risolto il problema. Non è così. Allora, facciamo un esempio che io ho chiamato l'Amazon e l'ascensore. E' un esempio vero, mi è capitato davvero. E quindi io abito al quarto piano, ha suonato Amazon, dice un pacco per uccio. Io mi chiamo Scotti di Uccio, ma loro abbreviano ogni volta. Ho detto, me lo mette nell'ascensore? E loro hanno detto, no, è meglio che scende perché devi firmare e soprattutto ho il furgone in doppia fila. Quindi, quali sono state le operazioni che ho fatto in quel caso? Suono Amazon, rispondo al cetefono, esco dall'appartamento, scendo le scale, arrivo al portone, firmo e prendo il pacco, ritorno all'ascensore, aspetto che arriva, salgo e entro in casa. C'è un'operazione che ho dimenticato? Qualcuno di voi? Aprire e chiudere la porta è corretto, ma quando chiudo la porta devo, che cosa, qual è il rischio? Tornando a casa, mi sono accorto che la porta era chiusa, ma non avevo preso le chiavi. Quindi, devo dire, prendo le chiavi, scendo le scale. In questa sequenza c'è un altro errore. Esco dall'appartamento, prendo le chiavi. No, devo prendere prima le chiavi e poi uscire dall'appartamento. Normalmente le chiavi sono dentro, non sono fuori. Quindi, ritrovato l'errore. E quindi ho cambiato la sequenza. Ma c'era un'altra cosa che posso decidere. Posso avere una soluzione A o una soluzione B. La soluzione A, aspetto che arriva l'ascensore e salgo. La seconda soluzione è... Salgo a piedi. Quindi devo decidere che cosa mi conviene. Se salgo a piedi, ho considerato il peso del pacco? Potrebbe essere un pacco molto pesante. E allora a questo punto quattro piani a piedi non mi convengono. Quindi, le parole che c'erano prima, giovane, analisi, sustainment, navigazione, aeronautica, giovane, c'era un giovane P. Io sono un giovane pensionato. E pertanto salire per quattro piani con un pacco potrebbe essere una cosa complicata. L'altra cosa, analisi e management dei eventi non convenzionali. Siamo sicuri che l'ascensore funziona? Siamo sicuri che è sicuro? Ci si domanda queste cose. Io abito in un palazzo del 1900. L'ascensore fa drun, 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 quando sale e quando scende. Certe volte uno si domanda se è il caso di utilizzarlo oppure no. Quindi è stato revisionato per quanti chili è abilitato. E l'altra cosa, dove sta l'ascensore? Quanto è veloce? Perché se ho fretta, magari mi conviene comunque salire a piedi. Quindi tutte queste attività che io sto elencando fanno parte del processo di decisione. Quindi non basta il cronoprogramma, ma il cronoprogramma deve valutare anche tutte quante le altre attività collaterali, anche sulle quali io non posso avere influenza, ma le devo considerare. Quindi come fare una corretta pianificazione? Ci sono vari metodi. C'è il metodo manuale. Quello che abbiamo fatto, analisi dei tempi, metodi dei rischi. Avevo detto che questo è un caso reale, perché il pacco di Amazon mi arriva davvero. E quindi una sperimentazione. Può essere anche un sistema assistito. Esistono dei programmi di calcolo, non il cronoprogramma. Esiste un programma che poi incontrerete nel tempo, che si chiama PERT, che tiene conto non solo del cronoprogramma, cioè della tempistica, ma anche dei rischi, delle durate, di quante risorse sono necessarie per fare le cose. E posso fare assistita, posso fare delle simulazioni, o come è una parola che incontrerete moltissime volte nel vostro futuro, digital queen. Digital queen è il modello digitale di un'operazione, il modello digitale di una cosa. Esiste il digital queen di un aeroplano, esiste il digital queen di un missile, esiste il digital queen di una macchina, di una vettura. Ve ne parlerà il dottor Zoppas di che cos'è il digital queen applicato. L'ultima cosa è utilizzare l'intelligenza artificiale. Adesso va molto di moda le nuove chat, che uno fa una domanda e quello risponde, dandoti tutte quante le informazioni di cosa c'è da fare e come farlo. Il problema, per esempio, dell'intelligenza artificiale è che ci sono degli inconvenienti. Voi tutti avete sentito parlare di fake news, esistono anche le fake information. Se io alimento un sistema con delle informazioni false, un sistema automatico, con delle informazioni false che cosa ottengo come risultato? Ottengo un risultato che il sistema intelligente alimentato con dati falsi mi dà dei risultati e delle informazioni false. Quindi rientriamo sempre nel discorso che abbiamo sempre fatto dall'inizio. Bisogna pensare, anche se c'è un tool automatico, bisogna sempre ragionare e fornire le informazioni in base a certi criteri che non sono quelli semplicemente che cosa devo fare e poi Dio ci pensa e poi se c'è qualcosa che non va bene è stato il fatto. Dobbiamo in qualche modo pensare a come proseguire. Quindi bisogna pensare all'eventualità di un errore di valutazione, a una dimenticanza, ai rischi che possono avere conseguenze sui costi, sui tempi. La nostra politica, quante volte dicono dobbiamo fare la metropolitana di Roma in cinque anni? Sono non so quanti anni che stanno facendo la terza linea della metropolitana. Perché? Perché ci sono dei rischi. Quali sono i rischi? Il rischio più banale è che scavando trovano un muro di una villa di Roma imperiale e si blocca tutto. Allora perché affermare facciamo in cinque anni la metropolitana? Non è corretto. Vi porto degli esempi veri che sono un po' legati a quello che ha detto il colonnello, il capo del terzo stormo. Il primo esempio è del 1945. Non c'era quasi nessuno di noi. Non c'era nessuno di noi nel 1945. Nel 1945 non c'erano mezzi di calcolo automatici, non c'erano radar, le comunicazioni erano veramente al minimo. La tecnologia, per quanto eccellente di quel tempo lì, oggi la diremmo che è estremamente limitata. Non c'erano i satelliti. Nel 2022 invece avevamo i satelliti, avevamo le comunicazioni, avevamo il controllo, quello che si chiama controllo dello spazio aereo. Il primo esempio è il ponte di Berlino. Attenzione, non è il film Il ponte delle spie che tutti quanti forse conosciamo. Il ponte di Berlino era il ponte aereo di Berlino. Qui ho un piccolo film che racconta bene qual è stata la problematica. Siamo alla fine, dopo la Seconda Guerra Mondiale, voi sapete che la Germania era stata suddivisa in varie parti. C'era la parte francese, quella inglese, quella americana e quella sovietica, non russa, sovietica. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la Germania viene divisa fra gli alleati. La parte occidentale va agli americani, inglesi e francesi. L'est è controllato dai sovietici. Anche Berlino, all'interno della zona est, è divisa. Gli alleati vogliono controllare la ricostruzione di quella che è stata la capitale del Terzo Reich. Ma i russi non vogliono costruire una Germania democratica. Il leader sovietico Stalin vuole annettere tutta la città di Berlino alla Germania orientale. Il 24 giugno del 1948 Stalin porta il mondo pericolosamente vicino a un'altra guerra. Le truppe sovietiche circondano Berlino e bloccano l'accesso alla città, impedendo la circolazione dei treni e dei cammini. La città diventa un'isola, tagliata fuori dal resto d'Europa. Senza cibo, carbone e medicine, i berlinesi, già duramente provati dalla guerra, non possono sopravvivere a lungo. Questa era la situazione di Berlino, la capitale della Germania, subito dopo la seconda guerra mondiale. Come vedete era praticamente tutto distrutto, ma abitavano a Berlino ancora due milioni di persone. Gli americani si indignano. Per loro Berlino è il simbolo della scelta fra la democrazia e il comunismo. Decidono di intervenire per portare cibo e aiuti agli abitanti della città. Non c'è alcuna possibilità di arrivare alla città via terra. L'unica via di accesso è attraverso i tre corridoi aerei che erano stati concordati dagli alleati alla fine della guerra. I corridoi, larghi 30 chilometri, sono l'unica salvezza per Berlino. Gli americani li usano per trasportare cibo e propiste alla città. All'inizio dell'operazione vengono impiegati 200 aerei da trasporto C-47 inglesi e americani. Gli aerei sono carichi prevalentemente di latte e patate. I C-47 fanno tre viaggi al giorno portando ogni volta tre tonnellate di proviste. Ma non basta. Ci vogliono 4.500 tonnellate al giorno per una città di due milioni di persone. I sovietici pensano che l'operazione fallirà. Il 15 ottobre 1948 viene creata una forza multinazionale per gestire il ponte aereo e continuare a inviare rifornimenti a Berlino. Una coalizione di stati prende il controllo dell'operazione. Il 12 maggio 1949 i sovietici tolgono l'assedio alla città senza dare spiegazioni. Gli alleati hanno vinto la prima battaglia della guerra fredda. Durante gli 11 mesi di assedio gli alleati hanno condotto 275.000 missioni portando a Berlino più di due milioni di tonnellate di proviste. I piloti sono considerati gli eroi del ponte aereo. All'inizio avevano pensato per alimentarli quando gli americani avevano deciso di fare il supporto con, aveva detto, latte e patate. In effetti hanno fatto vedere le bottiglie di latte e le patate. In realtà non erano latte e patate in bottiglia o nei sacchi. All'inizio erano polvere di latte e patate essiccate perché pensavano di meno e loro pensavano con questo sistema di poter poi alimentare la popolazione a Berlino. Ma poi si sono accorti di una cosa, che non riuscivano a ottenere dei buoni risultati e allora come l'ha parlato il sindaco dicendo si deve fare un lavoro di team, bene, fu creata una forza multinazionale e ci furono 278 mila voli per due milioni di tonnellate di cibo, un milione e cinquecentomila tonnellate di carbone, eccetera. Si è arrivati a 1398 voli al giorno, quasi il triplo dell'aeroporto più grande che esiste, che è quello di Itro. Da notare una cosa, e lì ho messo, in tutta questa enorme operazione ci sono stati soltanto 25 incidenti e soltanto 83 morti, lo 0,008-0,005% e i morti sono stati 83 perché c'è stato un solo incidente che ha fatto fuori purtroppo 18 persone. E questo incidente è successo perché c'era un aereo che faceva delle acrobazie vicino ad un aeroporto nella zona inglese. Quindi se togliamo quello, lo 0,005 diventa ancora più basso. Guardate le fotografie. È il centro di controllo, è il centro di comunicazioni che è stato utilizzato in quella frangente. Se guardate bene le foto, non vedete nemmeno una penna stilografica, vedete delle matite, non vedete schermi, computer, eccetera, perché non c'erano. Vedete delle lavagne e del gesso. Questo significa che è stato possibile effettuare questa operazione di supporto enorme che è durata per circa un anno e mezzo, senza strumenti, ovvero l'unico strumento è stato il cervello di quelli che stavano lavorando al supporto logistico e soprattutto l'abitudine a lavorare secondo certi criteri e certe procedure che erano state sviluppate dalle forze armate in quel caso. Questo è il primo dei due esempi, ma parliamo l'esempio, non voglio parlare di politica, l'esempio Ucraina un anno fa, proprio in questi giorni, se vi ricordate, le striscette blu che sono su in alto sono l'attacco, l'invasione russa che volevano andare a prendere Kiev, la capitale dell'Ucraina, in quei tempi. E allora voi tutti ricordate anche delle foto che sono state fatte vedere nei telegiornali, sui giornali eccetera, la famosa colonna di lì, lì, che era lunga 60 chilometri di cararmati fermi o di mezzi russi fermi. Che cosa era successo? Era successo che normalmente voi sapete che i cararmati camminano sia su strada che nei campi, ma c'era stata una condizione eccezionale che era capitata. C'era stato un riscaldamento anomalo dovuto al fatto che la primavera era arrivata prima e quindi, voi sapete, il 2022 è stato l'anno più caldo degli ultimi 50 anni, tutta la neve e il ghiaccio che si trovava in quella zona si era sciolta ed erano diventati completamente dei pantani in tutto, per cui i cararmati sono stati costretti a muoversi su strada, sono stati costretti a camminare in fila e voi sapete che camminando in fila si consuma molto più carburante che non sulla strada libera. Una macchina normale fa, che so, 18 chilometri al litro se cammina su strada libera, se sta in città ne fa 3-4. Quindi hanno avuto questo tipo di problemi e pensavano un cararmato normale ha un'autonomia fino a 550 chilometri, il confine sta a 350-400 chilometri a seconda delle posizioni, pensavano di poter arrivare tipo un'invasione in una giornata a Kiev, si sono fermati a metà strada e hanno avuto dei problemi enormi di alimentazione, di carburante, eccetera. non avevano il sistema che abbiamo noi con i paracodisti che possono scaricare i depositi di carburante quindi arrivavano le autobotti a rifornire ai cararmati e voi sapete che l'autobotta è non armata, era un bersaglio sparavano all'autobotta piuttosto che sparare al cararmato facevano un bel botto e veniva pure meglio dal punto di vista della difesa. Che cos'è che non era stato valutato? un'attività, un argomento totalmente fuori dall'operazione militare che era stata prevista, cioè la meteorologia era stato sottovalutato l'aumento della temperatura quindi questi sono il risultato dei due esempi le lesson learned ci dicono che non basta fare un cronoprogramma io prendo il cararmato 500 km, ho fatto il pieno e corro ma devo valutare altri fattori, tutti i fattori oggi stiamo meglio per via dell'intelligenza artificiale che ci aiuta? Sì, ma solo se siamo in grado di fornire le informazioni giuste solo se siamo in grado di fornire le informazioni giuste quindi la conclusione è una qualsiasi operazione riesce bene se nel pianificarla si tengono in considerazione tutti i fattori che possono influenzarle l'esito. Quando abbiamo visto la presentazione del terzo stormo è un esempio di come si deve agire per avere risultati eccellenti non solo, risultati eccellenti con il minimo dispendio è una cosa fondamentale perché se io non ho i soldi non posso fare le cose e con il massimo risultato e si ottiene dopo anni di lavoro, di esperienza ma soprattutto di passione perché se uno non mette un po' di passione nelle cose che fa o le fa in maniera distratta l'incidente di percorso può succedere. Noi, quando io parlo del mondo civile chiaramente non è rispetto al mondo incivile ma civile si dice civile e militare quindi noi del mondo civile come ci stiamo comportando come avevo detto prima non è importante essere grandi aziende o piccole aziende grandi enti o piccoli enti bisogna, è importante considerare il metodo considerare le variabili considerare le correlazioni per considerare le conseguenze questo è il suggerimento che mi sento di potervi dire in base anche alla mia esperienza di giovane pensionato su questa cosa ma tenetene a mente perché qualunque operazione che vi facciate da oggi in poi ci sono sempre delle variabili che vanno considerate con questo io penso di aver finito mi auguro di non aver sfondato i tempi e ok